Buongiorno, la destra leghista è truce, va in spiaggia, beve il mojito, guarda le cubiste, chiede pieni poteri, ci vuole un'alternativa e si apre dunque il dibattito sulle colonne del foglio, dibattito al quale partecipano politici del calibro di Flavio Tosi, Mara Carfania, Stefano Parisi, Alessandro Cattaneo, quattro nomi, quattro voti, ora il dibattito è in corso, ma io vi anticipo il sicuro finale, cioè ci vuole un partito liberale e conservatore che faccia da contrapeso alla destra truce di Salvini e io francamente sarei anche d'accordo, ma c'è però un piccolo dettaglio che va bene, non si vede un Luigi Einaudi in grado di realizzare questo partito e poi c'è la verità, ci hanno provato in tanti, però nessuno è riuscito se non fosse il Berlusconi del 94. In ogni caso non è di questo che voglio parlare perché io penso che se la destra è truce, la sinistra è atroce, cioè la destra almeno a qualcuno che la rappresenti sarà truce, però comunque il 40% degli italiani si riconosce in Salvini, forse lo hanno votato anche per disperazione, non credo che il 40% degli elettori italiani sia truce. Ad ogni buon conto se la destra è truce e la sinistra è atroce perché uno di sinistra che cosa dovrebbe votare in questo paese? Il Partito Democratico, andiamo un po' a vedere, il Partito Democratico, uno dei leader è Matteo Renzi, l'abbiamo visto in azione, unico ideale prendere più potere e poltrone possibili, nient'altro. I suoi servi lo avevano convinto di essere Jeff Kaye italiano e invece si è rivelato un Veltroni cattivo, cioè Veltroni buono per definizione, Renzi si capisce che non è così buono, che è vendicativo. Poi c'è Nicola Zingaretti, la sinistra di Nicola Zingaretti, per capire com'è fatta basta ritornare con la memoria alla presentazione del simbolo del PD alle recenti europee. Cos'hanno scelto come luogo la terrazza romana, cioè simbolicamente non era possibile fare di peggio e infatti hanno fatto così. Poi musi lunghi, facce tirate, discorsi così trascinanti che la gente era tentata di buttarsi nella piazza di sotto. I capetti del PD sono un capolavoro di tafazzismo, cioè ricordate il personaggio di Aldo Giovanni e Giacomo vestito di nero che con una clava si percuoteva i genitali, ecco tale quale. Allora, vanno a Lampedusa a sfilare per i migranti, accoppano un carabiniere, loro mica vanno dalla famiglia del carabiniere, no, vanno a trovare il killer, va bene, va bene andare a trovare i carcerati, è giusto, però prima magari vai a trovare la famiglia del carabiniere morto. Poi comunque la grande opera, il capolavoro assoluto è stato salire sulla nave ONG che è andata a speronare la Guardia di Finanza, questo che penso sia un record mondiale, neanche nelle comiche si ride come con il Partito Democratico, questa è la realtà. L'unico di sinistra che parla di lavoro e non di cazzate politicamente corrette è Marco Rizzo, leader del Partito Comunista. Il Partito Democratico invece si è specializzato in un altro genere di politica che consiste nel fare le coccole agli immigrati, le coccole all'Unione Europea e le coccole al peggior capitalismo italiano. Ora direte voi è che esagerato, ma poi a sinistra ci sono altre formazioni come i 5 Stelle che ormai appunto possiamo considerare di sinistra. Ma guardiamo anche lì dentro, Luigi Di Maio poveraccio è uno che è capitato lì per caso, ha fatto il reddito di cittadinanza che è insostenibile per l'economia italiana e ha portato al governo esperti del calibro di Toninelli. Nonostante questo non è neppure il peggiore del suo partito, perché il suo erede potrebbe essere Alessandro Di Battista che ha delle idee che sarebbero sembrate superate anche Armando Cossutta, quindi anche i 5 Stelle non è che siano messi benissimo. E allora destra truce, sinistra troce, aiutosi e salvi chi può.